Parliamo di The Killer, è uno di quei film, The Killer, che ha delle cose che mi sono piaciute parecchio e delle cose che mi sono piaciute poco, quindi siamo già oltre il bello brutto, perché secondo me è un film difficile da inquadrare. Anche The Killer usa Amazon tra l'altro, sì, infatti c'è un product placement mostruoso che però non mi è dispiaciuto a dire la verità, non è una delle cose che mi sono dispiaciute di The Killer. Una delle cose che mi è dispiaciuta di The Killer è la banalità della trama, che è funzionale chiaramente a ciò che vuole essere raccontato. Io, per carità, non sono un nazista in questo, nell'andare a cercare sempre l'originalità nella trama principale, perché penso che l'originalità debba stare dentro le zone d'ombra, dentro... Però ecco, un po' questo cliché del killer, non so se è tratto da un libro, per cui magari si attiene alla trama del libro e quindi vatta la pigliare con chi l'ha scritto. Ci sono un po' di cliché dentro questa cosa che sono un po' noiosi, secondo me. Il fatto che ci sia un procuratore di lavori, diciamo, di commissioni col papillon, diciamo, cioè proprio di quelli che bevono il tè, però sono spietati. È un po' troppo un cliché, nel senso... non è tanto quello il problema, cioè il fatto che ci sia un cliché. E che ce ne sono troppi di cliché, cioè... cliché da tutte le parti e la storia è molto, molto, molto lineare. Da quel punto di vista speravo potesse darmi qualcosa in più, speravo, perché comunque stiamo parlando di un regista che nei suoi film, alcuni dei suoi film, come Fight Club o The Game, ha dei grandi finali. Allora, tornando a The Killers, niente, un po' ecco, la critica che posso fare alla storia è questa, che è un po' così, come dire, un po' troppo lineare. Però all'interno del film ci sono un sacco di cose molto interessanti e ci sono delle belle scene, comunque, che comunque non hanno questo apice finale che emoziona, che sorprende. Per cui, chiaramente, ieri abbiamo parlato del fatto che i film che sorprendono, che ti lasciano un gran finale, poi ti lasciano bene come spettatore, ti lasciano un bel ricordo dell'esperienza, no? Quindi, anche il dream scenario, comunque, finisce molto, molto sotto tono rispetto al resto della trama. Anche se a me piace, mi è piaciuto, è un finale molto poetico, che lascia un po' l'amaro in bocca, così. Invece questo finale non mi è piaciuto molto, ma, insomma, non critico, appunto, le scelte stilistiche di gusto. Penso che, tecnicamente, sia un film molto bello, The Killers, con un lavoro abbastanza bello e buono sul montaggio audio-video. Il film acquisisce un'estetica più bella grazie a questa ossessione per gli Smiths che ha il killer che ascolta sempre gli Smiths nei momenti in cui deve concentrarsi, no? Quindi, chiaramente, grande musica nei film fa sempre bene. C'è una scena molto, molto, molto bella, veramente da... memorabile. Una scena memorabile con Tilda Swinton, che non spoilerò a chi deve ancora vedere il film, molto bella, veramente una scena meravigliosa. E poi quello che mi è piaciuto è sicuramente il disegno di questo personaggio, questo killer, che in realtà non ci piace molto. Non è né bello... non è... bello è bello, probabilmente qualcuno confermerà, perché stiamo parlando di un attore molto affascinante. Non è buono, o meglio, non è empatico, o meglio ancora, non vuole essere empatico. Il fatto che lui dica che per essere un killer professionale bisogna dimenticarsi l'empatia è un modo per dire che lui l'empatia ce l'ha e la deve reprimere. Infatti ci sono dei momenti in cui lui sembra di fronte a questo dilemma e quando sceglie la strada del male, diciamo, della non empatia, del pragmatismo, diventa un mostro per noi. Ed è un bel modo di fare cinema, un cinema che... onestamente ne ho visto un pezzo con Jonah, ho visto un pezzo con Jonah e lui mi ha... ci è rimasto molto male vedendo questo personaggio che lui credeva un eroe, sì un killer, ma un killer può essere un killer eroico. Che ne so, uccidi solo i cattivi, i potenti del mondo che fanno del male alla gente, queste cose qua. In realtà lui ha visto questo personaggio e mi ha detto, ma no papà, perché ha fatto quello che ha fatto? Lui è il protagonista. E gli ho detto, guarda, non tutti i protagonisti sono come vorresti che fossero, non sono tutti buoni. Ho cercato di spiegargli che ti deve piacere non tanto il personaggio in sé, quelle che sono le sue scelte morali, ma ti deve piacere la rappresentazione di questo personaggio, cioè come è disegnato appunto, come è messo giù. Per esempio io potrei fare un film su Hitler e tu potresti dire che io ho fatto un bellissimo film in cui il personaggio di Hitler è rappresentato benissimo. Non devi necessariamente condividere i pensieri e le ideologie fuori di testa di Hitler, no? Chiaramente. È chiaro che se io lo pongo come protagonista di un film, mi metto in un guaio. Mi metto in un guaio, si aprono polemiche perché la gente dice, ma il protagonista è il buono. Il protagonista è colui in cui mi devo immedesimare. Tu non devi farmi immedesimare una persona cattiva. Invece non è così, invece non è così. Sì, in realtà immedesimarsi in persone cattive è necessario, secondo me. Cattivo poi è un termine abbastanza sciocco da usare in questo caso, quando si parla di cattivo. È molto interessante questo film, The Killer, ma non per gli aspetti che la gente pensa a prima vista, no? Ah, un film su un killer, l'action, le botte, le uccisioni, la parte thriller. In realtà no, in realtà la parte interessante di questo film è le rappresentazioni del male. Lui all'inizio lo dice, forse è la chiave di lettura di tutta la storia. Forse è la salvezza di questa trama, perché è una trama troppo lineare per i nostri gusti. Per i gusti del pubblico, per i gusti di chi ama Fincher. Lo dice all'inizio, le persone sono convinte che l'essere umano tendenzialmente sia buono. Cioè, che tendenzialmente sia buono e poi ci sono per gli esseri umani cattivi. Quindi la normalità è essere buoni, la normalità è rispettare l'altro, la normalità è lasciare la libertà all'altro, non prevaricarlo. E il killer invece lo mette in dubbio e dice, voi pensate che la normalità sia essere buoni, ma su che cosa basate questa convinzione? Siccome lui è un killer ed è molto pragmatico, allora chiede al pubblico, perché sei convinto di questo? Qual è il dato? Perché il mondo non è così. Il mondo non ti sta dicendo questo, il mondo ti sta dicendo l'esatto contrario. Quindi sembra quasi voler dire che tu uomo ti vuoi raccontare che gli uomini sono buoni, che gli esseri umani sono buoni, perché forse hai paura a vivere in un mondo, pensare a un mondo dove in realtà gli uomini non sono buoni. E poi all'interno di questo film ci sono i comportamenti di questi esseri umani. Ci sono degli innocenti, che sono dei falsi innocenti. Perché, a cominciare dal tassista, che è un falso innocente, la segretaria è una falsa innocente, sono tutti falsi innocenti. C'è un personaggio che viene salvato alla fine ma non ne parlo, che apre sicuramente dei dubbi. Ti fa chiedere come mai, però non voglio adentrarmi perché spoilero troppo. Però ecco, secondo me il film è interessante proprio perché in realtà è una sorta di manifesto, non che vuol dire che gli uomini sono cattivi, gli uomini sono egocentrici, egoisti, no? Pensano al loro interesse e fanno del male, lo fanno in modo esplicito come lo fa il killer o lo fanno in modo indiretto come lo fanno tutti gli altri complici del male. Non vuole essere un manifesto di questo, ma vuole essere un manifesto del mettere un dubbio alle persone su chi è buono e chi non è buono, se partiamo da quel concetto lì. Perché effettivamente, se ci pensate, siamo tutti dei grandi complici del male, nel nostro non aver fatto niente, non occuparci dei problemi degli altri, no? non combattere battaglie finché non toccano la nostra incolumità e i nostri interessi. Quindi è un film molto intelligente, all'interno ha tantissime meccaniche cinematografiche bellissime. La cosa che mi ha sorpreso tantissimo è la capacità di tenerti incollato fino alla fine pur non raccontando una mazza e questo secondo me è una grandissima dote del cinema, di chi sa far cinema, cioè prendere il niente e portarti in giro a zonzo e tu sei curioso di vedere cosa c'è dietro quell'altra porta, dietro quel vicolo, in quella stanza, fuori da quella finestra. È tutto un trasportare allo spettatore e questa è un'abilità che solo un regista, diciamo, navigato come Fincher può fare e altri, insomma, non è l'unico navigato. Qualche difettuccio, secondo me, di fotografia, anche se ha tantissime scene con una bellissima fotografia, però qualche fotografia non mi è piaciuta. probabilmente sono anche, chi lo sa, delle seconde unità. Tenete presente che i film vengono diretti da regista, ma ci sia sempre l'aiuto regista o comunque il direttore della seconda unità che potrebbe comunque avere un leggero stile diverso, avere meno attenzione su certe cose. Quindi notate a volte dei film delle strane diversità. Ecco, alcune scene non mi sono piaciute e poi io non amo molto. Adesso non vorrei azzardare perché poi vengo smentito, perché ci sono telecamere dove è impossibile vedere la differenza. Però questo mi sembra proprio un cinema molto digitale. A me non piace tantissimo. Quando è digitale e sa di digitale, però è fatto molto bene. E comunque il cinema di oggi va accettato. Va accettato, va assimilato, va... Soprattutto ora che comunque il passaggio tra digitale e pellicola è migliorato parecchio rispetto all'inizio. Che altro dire? Molto bello ovviamente in lingua originale. Fa sbendere. Bravissimo. È molto teatrale il film. Poche interpretazioni di contorno fatte benissimo. Tutti bravi gli attori che incontrerà. Vabbè, Tilda Swinton è qualcosa di... Regala a questo film una piccola gemma, una scena di pochi minuti, ma fondamentale. Niente, forse è l'unica cosa che mi ha un po', mi dire, raffreddato l'entusiasmo. È un finale che una persona come Fincher così poteva tirar fuori veramente qualunque cosa. Però non so se si è voluto ottenere a un romanzo o qualcosa che... Ah, è un fumetto, è un fumetto, ok. È un fumetto, quindi forse ha voluto essere fedele al fumetto, per cui ci può stare. È un film intelligente. Non è sicuramente uno di quei film che ti scalda il cuore, come può essere The Game, come può essere Fight Club. Però all'interno ci sono dei messaggi, delle cose, delle riflessioni interessanti. Probabilmente è l'eredità del fumetto. L'eredità del fumetto probabilmente è proprio questa, cioè porsi la domanda su che cos'è il male, chi è cattivo, chi non è cattivo. Il fatto è che i film nascondono dentro delle cose, no? E se non sei abituato a avere quella voglia di cercare la cosa nascosta, uno si limita a dire ma questo film di intrattenimento non intrattiene. In realtà l'intrattenimento di certi film sta proprio nel scardinare l'enigma, risolvere l'enigma. L'enigma è semplice in realtà. L'enigma diventa semplice nel momento in cui tu ti chiedi che cosa voleva fare questo film. E quando te lo chiedi scopri che te lo sta dicendo. Te lo dice all'inizio del film. E questa è la cosa assurda di come le persone pensano che sia difficile leggere i film. in realtà non è difficile leggere i film, il difficile è porsi con l'atteggiamento giusto nei confronti del cinema. Ci si pone sempre in modo molto, come dire, distratto e con delle aspettative assolutamente sbagliate. Grazie a tutti.